Anche negli ultimi giorni di settembre sono terminati con bel tempo, temperature ben oltre le medie. Questo fine settimana si continuerà con questo trend, tuttavia anche se non avremo precipitazioni le nubi tenderanno ad aumentare grazie a correnti più umide in arrivo da ovest. Venerdì nuvoloso in mattinata, possibili piovigini sulle pedemontane e da metà giornata le nubi andranno via via di rodandosi. Poco nuvoloso, sereno la sera. Temperature stazionarie. Sabato bella giornata di sole, dal pomeriggio arriveranno correnti fredde da est Europa, tanto che i valori di temperatura minima li registreremo la sera quando in pianura si andrà intorno ai 9-10 gradi. Domenica splenderà il sole sul Vicentino, sarà piuttosto freddo, solo la sera aggiungeranno velature da est. Estremi termici in pianura tra 5 e 15 gradi. Continuerà fino almeno il 14 ottobre l'afflusso di correnti fredde dal nord-est, tuttavia il tempo rimarrà stabile, pochi passaggi nuvolosi. Visibilità ottima grazie al basso tasso di umidità.